Che Netflix abbia fatto innamorare tutti è un dato di fatto, la potentissima piattaforma di streaming video ormai è arrivata in Italia da più di un mese e gli utenti ne hanno incominciato ad apprezzare i frutti, l'ottima qualità, il catalogo che in effetti sta migliorando ma non è ancora il massimo e soprattutto la possibilità di utilizzarlo con più dispositivi contemporaneamente, sempre ovviamente in base al proprio abbonamento. Ebbene ragazzi fino a poco tempo fa negli Stati Uniti c'era la possibilità di guardare lo stesso programma di Netflix contemporaneamente da più persone, una cosa che era possibile soprattutto con Xbox One ma che è stata eliminata proprio dalle funzionalità della console di Microsoft, ma non temete c'è una soluzione molto simile, una soluzione che è disponibile al download gratuito e legale tramite il Google Web Store, una cosa che è possibile tramite un componente aggiuntivo di Google Chrome che vi farò vedere proprio in questo video. In questo video quindi vi farò vedere proprio come condividere uno stream in diretta di Netflix con un vostro amico o un vostro familiare utilizzando quindi questo plugin di Google Chrome e quindi esclusivamente visualizzando i contenuti tramite browser web. Io sono Dario Caliendo, questo è un nuovo video di TechFanPage, lei è Penny e vi diamo il benvenuto. Come vi anticipavo per condividere in diretta lo streaming di una riproduzione Netflix con i propri amici e con i propri familiari si utilizzerà un plugin gratuito per Google Chrome, plugin che si chiama Show Gores ed è disponibile gratuitamente nel Google Web Store. Si tratta di un plugin che va installato da entrambe le parti quindi sia chi trasmette e sia chi riceve e una volta installato il plugin non bisognerà fare null'altro, tutto quello che bisognerà fare sarà avviare lo streaming di una trasmissione Netflix e una volta iniziato il video vedrete che comparirà oltre alla solita interfaccia di Netflix anche un'icona a forma di occhiali, occhiali 3D. Cliccando proprio su questi occhiali comparirà una finestra con la quale verrà generato un link, link che potrà essere copiato oppure condiviso addirittura su Facebook e Twitter e a questo punto il gioco è fatto. Chi vorrà vedere in diretta lo streaming che state vedendo voi quindi in tempo reale non dovrà fare altro che dopo aver installato il plugin su Chrome collegarsi proprio al link che avrete condiviso voi e il gioco sarà fatto. Inizierà automaticamente lo streaming e vedrà esattamente quello che state vedendo voi. Bene ragazzi avete visto questo plugin è potentissimo e la possibilità di condividere uno streaming web di Netflix è una cosa veramente molto comoda soprattutto se lo si fa con amici e familiari. Io sono sempre Dario Caliendo, questo era un video di TechFanPage, l'appuntamento è al prossimo video di TechFanPage e come sempre vi mando un abbraccio.